Nudoloso o coperto, Adriatico, settentrionale, variabile 3, parzialmente, nudoloso, con nubi, in aumento, visibilità buona, poco mosso, tendenza, sud-est, 4, rovesci, mar, lì, alborana. Eccoci qui alle sette e mezza, dopo aver tolto la torpettina, piocco tre olimpico, vai! Però almeno al momento non piove. La barca sopra è parecchio l'onda. 7.30, mancano 43 miglia, borde di colina. C'è un'onda un po' fastidiosa, qui fuori. Bello! I produced un periodo un periodo Così è come è rimasta in rotta, con il pilota disinserito. Me la sono accorto dopo un bel po', che Timona, egregiamente, ha già guadagnato un sacco. La lascio andare. Non poteva che finire così, Spider-Tech. Non so, non so, non so, non so, non so. Venga male. Spider-Tech. Buona velocità, perché c'è qualche calo in realtà. Preggiotto, preggiotto, preggiotto. Ecco come va. Va che è rinforzato. Ho preso una mano di Terzaroli, l'unica, alla randa da regatta. Il vento lì sta aumentando un po', la giurcia Trieste. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.